buongiorno a tutti mi presento sono donatella manna dottoresse scienze dell'educazione e ho il piacere di presentarvi il mio libro sotto le stelle anche i bulli questo è il mio secondo lavoro editoriale edito lombardo edizioni e una storia illustrata per ragazzi le illustrazioni sono di davide beccore attraverso questa storia desidero sensibilizzare sul tema del bullismo è un tema che mi sta particolarmente a cuore in quanto si tratta di una vera e propria emergenza educativa parliamo di ragazzi che molto spesso vivono questa loro sofferenza per tanti anni presi di mira da i bulli come vengono appunto definiti ma che possono assolutamente essere salvati cerco quindi di mettere in evidenza la responsabilità degli adulti nel processo educativo nell'educazione al rispetto che delle volte è manchevole di alcuni elementi soprattutto dell'esempio e cerco di mettere in evidenza anche quali sono le strategie per poter venire fuori dall'incubo del bullismo e naturalmente facendo leva sul gruppo dei pari gli spettatori silenziosi che assistono alla violenza che può essere psicologica verbale fisica e soprattutto il dialogo che deve esserci tra la scuola e la famiglia per poter venire fuori appunto dall'emergenza bullismo buongiorno donatella buongiorno essere qui con noi all'anima tra le righe tu sei una pedagogista sei un'educatrice quindi hai deciso di occuparti di un tema così delicato ma spiegaci il titolo di questo libro sotto le stelle anche i bulli cosa significa allora intanto perché sotto le stelle dovrebbero trovarsi le cose più belle noi bambini fiori come abbiamo spesso letto in letteratura in realtà sotto le stelle quindi sulla terra ci sono anche i bulli quindi bambini chiaramente anche loro bisognosi di aiuto perché essere un bullo non è una scelta si diventa a causa di un'educazione sbagliata di errori educativi e questo tema questo titolo si lega anche alla passione del protagonista di Giosuè per le stelle un bambino molto sensibile molto intelligente chiamava le stelle non è questa sua particolarità che diciamo lo rende vittima però sicuramente un bambino che rispetto agli altri ha delle passioni tutte sue come possono essere appunto quelle della lettura dell'astronomia un bambino che cerca di essere se stesso un bimbo dolcissimo che però appunto viene preso di mira da i compagni senti la copertina mi ha subito colpito visivamente perché un chiaro intento almeno io lo interpreto così di colpire emotivamente non solo il lettore adulto ma anche soprattutto i ragazzi c'è un preciso intento educativo in questo sì assolutamente le illustrazioni che sono state create proprio da un ragazzo che ancora frequenta la scuola davide beccore che ringrazio perché se il progetto si è realizzato in questa maniera è perché lui ci ha creduto e ha collaborato con me alla realizzazione del prodotto l'intento è proprio quello di partire dai banchi di scuola quindi realizzare delle immagini che potessero essere efficaci semplici e che riuscissero a fare sentire a casa i bambini perché sono appunto non immagini professionali graficamente perfette sono dei disegni come quelle che un ragazzo che frequenta la scuola può realizzare anche soprattutto a partire dalla scuola primaria perché è lì che i bambini ma io direi anche dalla scuola dell'infanzia vanno sensibilizzati al rispetto al rispetto dell'altro che poi significa anche rispettare se stessi e anche al rispetto delle proprie emozioni perché nel momento in cui parliamo di bambini che hanno bisogno di esternare la propria rabbia prendendo in giro il compagno è chiaro che c'è stato un errore educativo non si sa con voi vogliare la propria energia in qualcosa di bello di positivo bisogna invece sia questa esigenza di prendere di mira qualcuno quindi tratto anche questo parlando di bullismo l'educazione alle emozioni che è fondamentale davide beccore alla sua prima esperienza editoriale però ha scelto di collaborare subito con te e di realizzare dice di disegnare qualcosa che però trattasse di un tema così delicato e importante come mai assolutamente l'ho conosciuto attraverso diciamo un progetto che aveva a che fare con con il cinema con la moda però ho avuto subito la percezione della sua grande sensibilità sapevo che amava disegnare ho parlato di questa mia idea perché la storia era già stata scritta quindi mi mancavano le immagini ho sottoposto alla sua attenzione la narrazione e lui si è subito messo al lavoro perché ha trovato il progetto molto interessante è un ragazzo chiaramente che ha percepito l'importanza di parlare di bullismo perché se ne deve parlare ho avuto modo anche di sentirlo esprimersi durante la nostra prima presentazione lui proprio rivolgendosi ai ragazzi perché c'era un gruppo di ragazzi della scuola dell'istituto comprensivo di santa lucia del mela che hanno posto delle domande rivolgendosi a loro ha messo in evidenza come in qualunque situazione della vita soprattutto quelle più critiche non bisogna mai vergognarsi di parlare e questo è anche segno della comprensione estrema che ha avuto del problema perché hai scelto di trattare un tema così forte allora sicuramente ho messo anche me stessa in questo libro lo dico in maniera molto naturale senza vergogna quando io parlo dei bulli di oggi parlo anche ai bulli di ieri anni fa però tutto passava sotto forma di ragazzata sono ragazzi scherzano sono bambini scherzano parlando anche con altre mie amiche mi sono resa conto di come l'età più critica è quella delle scuole medie soprattutto perché appunto non si è ancora non si ha ancora un'identità appena ben costruita e spesso in quella fase si viene presi in giro da qualcuno si è molto insicuri ed ecco che mi sono ritrovata pensando al bullismo ho ripensato anche a me stessa i tempi della scuola della scuola media di come poi tutto per fortuna sia passato perché cambiando ambiente trovando al classico un contesto di compagni che mi hanno fatto sentire assolutamente a casa e mi hanno fatto vivere serenamente i miei anni ho dimenticato determinati episodi però dentro rimane sempre una ferita mi sono resa conto di come tanti purtroppo abbiano impresse sulla pelle ancora queste ferite perché il bullismo segna per sempre quell'insicurezza quell'umiliazione non la dimentichi mai ci tengo anche a dire che non esiste il profilo del bullizzato esiste invece il profilo del bullo perché si può essere bullizzati per svariati motivi spesso tendiamo a pensare che chi ha determinate caratteristiche sia diciamo più preso in giro rispetto ad altri in realtà no perché il bullo può prenderti di mira anche per invidia perché non ti sopporta senza che ci sia veramente un motivo ecco questo lo vogliamo dire anche per rassicurare tutti quei ragazzi che sono bullizzati e pensano di avere qualcosa di sbagliato quelli sbagliati non siete voi e coloro che devono avere vergogna non siete certamente voi quindi ripensando a questi sentimenti a queste emozioni negative purtroppo della della mia adolescenza ho pensato che scrivere del bullismo fosse necessario assolutamente ma senti che cosa spinge secondo te un bambino ragazzo a diventare un bullo ci sono degli elementi scatenanti sì come dicevo il profilo del bullo c'è solitamente il bullo è un bambino che ha bisogno di affermare se stesso naturalmente possiamo prendere come punto di partenza come riferimento alla sua famiglia delle volte si tratta di bambini che o sono i secondo i terzi figli e quindi subiscono un po la prepotenza dei fratelli maggiori oppure assistono ad episodi di violenza a casa che può essere anche violenza verbale magari un tono aggressivo ed ecco che poi l'escalation di violenza si abbatte su di loro perché in realtà essere bulli non è qualcosa di positivo danneggia loro stessi perché comunque è vero che spesso si viene accerchiati da compagni che ritenendoti il più forte ti spalleggiano però poi a lungo andare dove porta questa violenza la violenza la cattiveria quella rabbia blocca blocca anche il loro futuro in realtà solo che in una prima fase non se ne rendono conto perché si sentono forti ci sono degli errori educativi è chiaro il problema che a volte alcuni genitori giustifichino qualunque operato dei propri figli o neghino l'evidenza oggi forse più di ieri oggi più di ieri la classica frase mio figlio queste cose non le fa in realtà i bambini come le persone adulte hanno tante facce tanti aspetti della loro personalità e può capitare che a casa si comportino diversamente che a scuola magari a scuola nel gruppo dei pari manifestano degli atteggiamenti di aggressività di prepotenza che noi magari a casa non riusciamo a intercettare però se l'insegnante se l'educatore sportivo se qualunque altra figura educativa di riferimento ci fa accogliere dei particolari comunque poniamoci il problema non andiamo subito sulla difensiva e che osserviamo bene i nostri ragazzi. Senti secondo te non è non sarebbe fondamentale un maggiore confronto tra la famiglia e la scuola? Assolutamente sì e forse il dialogo mancante a prescindere dico dal bullismo questo mancato mancata comunicazione una comunicazione efficace mentre fino a vent'anni fa 30 anni fa il genitore affidava il bambino a scuola con grandissima fiducia senza porre nessuna domanda perché aveva piena stima della classe degli insegnanti si fidava del loro giudizio e anche delle loro tra virgolette punizioni o comunque decisioni anche in merito alla condotta del bambino adesso abbiamo dei genitori che contestano tutto contestano i voti contestano una critica contestano una nota sul diario ecco e ci rendiamo conto che spesso gli insegnanti gli educatori in genere hanno grande difficoltà anche a svolgere il loro lavoro perché si sentono perennemente giudicati in realtà questo dialogo invece va di nuovo instaurato ci vuole una comunicazione efficace anche durante i colloqui con i genitori genitori scuola bisogna andare io mi rivolgo ai genitori con un atteggiamento assolutamente più sereno più pronto all'ascolto attivo perché in fondo l'insegnante ci può dare delle informazioni sul bambino che non potremmo mai avere diversamente e nello stesso tempo quando c'è un problema dobbiamo dire con creando una sorta di alleanza educativa perché quello che manca ecco cosa possiamo fare qual è la strategia tra strategia da adottare insieme questa è l'unica strada assolutamente senti ma come si possono sensibilizzare secondo te i bimbi sul tema del bullismo per esempio il tuo libro potrebbe essere ecco diffuso all'interno delle scuole visto che comunque di facile approccio con queste bellissime illustrazioni che si avvicinano di più al loro mondo sì assolutamente io penso che la cultura anche alle emozioni si possa diffondere anche a partire dai libri i libri possono essere un valido strumento certamente farò anche un lavoro in questo senso non per un mio riscontro personale o economico perché con l'editore abbiamo investito totalmente facendo veramente un prezzo assolutamente popolare non è per il guadagno che abbiamo stampato questo libro quindi cercheremo di farlo entrare veramente in più scuole possibili sul territorio io penso che si possa sensibilizzare parlandone poi ci sono varie strategie per esempio anche attraverso il teatro fatto a scuola può essere un modo anche per far tirare fuori ai bambini le emozioni e per capire facendo interpretare anche determinati diciamo dialoghi copioni per capire qual è il loro atteggiamento nei confronti dell'altro ecco è un modo anche per mettersi nei panni dell'altro capire che cosa significa essere bullizzato che è la parte più brutta che nessuno vorrebbe interpretare ecco perché alcuni bambini che assistono magari a degli episodi di violenza sul compagno hanno paura a parlare perché temono di essere presi di mira a loro volta quindi la scuola può fare sicuramente un grandissimo lavoro e poi a casa ecco io dico sempre che si educa e si può prevenire tanto delle problematiche educative proprio con l'esempio noi dobbiamo imparare a essere degli adulti credibili se noi pretendiamo dai nostri figli che abbiano atteggiamenti rispettosi con gli altri e poi noi siamo i primi a non rispettare le regole ecco l'esempio ecco l'esempio questa regola questo dovrebbe essere la base siamo i primi magari a non rispettare le regole a prendere in giro l'altro a ridacchiare della persona che passa perché secondo noi è ridicola qualche cosa insomma che su cui ridere ecco tutti questi atteggiamenti chiaramente non sono educativi non sono coerenti con un'educazione al rispetto e quindi è chiaro che siamo fuori strada dobbiamo imparare a essere più coerenti nei nostri comportamenti senti alla fine del libro ci sono due fogli tra virgolette bianchi ce ne vuoi parlare? sì questa è un'idea che abbiamo elaborato insieme all'editore Antonio Lombardo perché appunto abbiamo pensato che ogni bambino dopo aver letto il libro può magari avere delle considerazioni personali oppure può elaborare anche un finale perché il finale è una sorta di conclusione aperta ecco della storia che ho scritto quindi magari può metterla su queste pagine ma può essere anche un modo per fare una sorta di confessione magari ritiene di essere stato anche lui il Giosuè della storia qualche volta oppure conosce un Giosuè quanti Giosuè ci sono purtroppo tra i bambini e potrebbe magari scrivere qualche cosa in queste pagine che può essere illuminante, rivelatore magari per l'insegnante che si troverà il libro nelle mani o per la mamma e il papà ecco queste due pagine vogliono essere in un certo modo anche terapeutiche se così vogliamo ci può essere qualcuno che magari vorrà disegnare ecco anche una sorta di conclusione di questa storia libera scelta, ecco grande libertà in queste pagine soprattutto per esprimere se stessi e i propri pensieri Senti, vuoi lanciare un messaggio ai ragazzi e ai bambini che ci stanno ascoltando proprio sul tema del bullismo un invito tra virgolette alla speranza a rivolgersi ai genitori, alla scuola quando ci sono eventi di questo tipo? Assolutamente sì mi rivolgo ai ragazzi che hanno subito episodi di bullismo che può essere anche essere presi in giro con un nomignolo che non vi piace con risatine alle quali ridono solo gli altri e non voi ecco anche quello è bullismo non vergognatevi assolutamente perché la tendenza è quella di vergognarsi non siete voi a dovervi vergognare parlatene, parlatene magari con gli insegnanti perché capisco che delle volte è difficile parlarne con i genitori ma parlatene anche con mamma e papà perché non vi giudicheranno con qualcuno che vi sta vicino con un amico, chiedete aiuto si può uscire dal bullismo da questo inferno nel quale vi sentite vi sentite dentro perché è vero la sensazione è proprio quella chiedendo aiuto mettendo in evidenza la situazione che state vivendo soprattutto la situazione emotiva non lasciate che spengano la vostra voglia di vivere perché gli altri sbagliano hanno degli atteggiamenti cattivi nei vostri confronti quindi è questo quello che mi sento di dire perché il bullismo tra l'altro lo sappiamo bene anche dai fatti di cronaca ha causato anche la fine della vita di alcuni ragazzi penso per esempio a ragazzi con un diverso orientamento sessuale che a un certo punto non ce la fanno più perché si arriva veramente allo stremo quando puntualmente ogni giorno si viene presi in giro quindi come tutte queste vite spezzate sono inaccettabili ma anche la depressione tutti i ragazzi che non vogliono più uscire di casa perché si sentono presi di mira è inaccettabile che nella nostra epoca ancora si debba soffrire per questo quando invece si parla di accettazione dell'altro di rispetto non devono essere parole vuote è vero ma devono essere parole ricche di significato come le tue e quindi noi veramente ti ringraziamo per essere stata con noi grazie a voi un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ci ascoltano grazie a te a questo bel messaggio di speranza grazie a voi grazie grazie